Andescu, un punto vendita in pieno centro che rivoluzionerà un po' il modo di fare acquisti se finora si va all'emisfero o in via Boito per poter far spesa fino a una certa ora. Adesso nel pieno centro, fino alle 21, un punto vendita dove ci sono tantissime marche peraltro conosciute benissimo anche dagli italiani. In realtà noi portiamo i nostri prodotti dopo esattamente un anno di attività in Friuli, Venezia e Giulia più preciso a Trieste, abbiamo già un mini market con gli stessi prodotti volevamo essere più vicini ai nostri connazionali e offrendo loro la possibilità di fare la spesa avendo i prodotti tipi tradizionali e allo stesso tempo ci auguriamo che la gente che vive a Monfalcone perlomeno abbia la curiosità di venire a trovarci e assaggiare i nostri prodotti. Senti, marchi come Pepsi, Coca Cola, Knorr, quindi marchi conosciuti. Sì, i marchi conosciuti sono presenti anche nel nostro negozio, abbiamo tutti i generi alimentari anche le bevande, anche qualcosa di tipico, anche qualcosa dei gruppi internazionali. C'è una bibita che io ho già assaggiato, quindi... Allora, c'è una Fanta molto particolare, molto particolare che vale la pena, io ho già bevuto, anzi adesso approfitterò e porterò un'altra bottiglia. Che cosa c'è di speciale che in Italia non si trova? Beh, in realtà è Fanta Luva del gruppo Coca Cola che in Italia non lo producono, lo producono nel paese dell'Est, nei paesi dell'Est e noi lo importiamo direttamente dalla Romania. Ogni giorno lavoriamo per la città, per i cittadini. L'apertura di questo punto vendita, che è un punto vendita di qualità, lo si intuisce subito, con una prospettiva che si intuisce pure, è sicuramente un valore per il territorio. Sono persone che hanno già lavorato con grandi risultati, non soltanto di sviluppo della loro attività, ma di messa a disposizione di posti di lavoro. È un'attività che ha voglia di crescere, che si mette a disposizione per fare un ragionamento non soltanto, come dire, di reddittività, ma anche di sviluppo del territorio. Questo per me è molto importante e quindi sono ben lieta non soltanto di esserci, ma ci siamo confrontati anche sulla possibilità di fare altri ragionamenti, visto che la comunità rumena, a Monfalcone, su questo territorio, è abbastanza, come dire, importante dal punto di vista numerico. Quando è importante per il centro città avere un supermercato che chiude alle 21? Perché ricordiamo qui, praticamente, nel cuore, dopo le 19.30, praticamente sembra di stare nel coppifuoco. Ma allora, questa attività avrà un orario, mi diceva adesso, irresponsabile, dalle 8 alle 21, mi sembra, e in centro città offre non soltanto un negozio per l'acquisto, ma anche offre delle alternative, tra virgolette, di pasti caldi. Io credo che sia importante sempre che ci siano delle attività che offrano dei servizi. Mi pare che questo sia il caso. È logico che bisogna radicarsi, bisogna che le offerte siano compatibili con l'esigenza. Per quello che ho visto, gli ingredienti, mi pare, ci siano davvero tutti. Per cui faccio un in bocca al lupo a questa attività, come alle altre, che vanno a far crescere la possibilità per i monfalconesi e per tutto il territorio, anche se ragioniamo in termini più estesi, di avere un nuovo servizio, in termini di orario, ma anche in termini di qualità. Nei vari piatti, cosa ha trovato qualcosa che le piace? Indubbiamente ci va, ci ci. Fasanna, un centro che proprio aveva bisogno di un punto fino alle 21, per dove poter andare a far spesa, perché se no bisognava sempre andare in centro commerciale. No, hai assolutamente ragione. Qui questo locale fa dal lunedì al venerdì, o dal lunedì del sabato fino alle 21, quindi in orario continuato, dando e andando ad implementare e a completare quello che è il servizio che dà già dalla città. È per noi un evento importante, questa apertura, perché comunque va ad arricchire già l'offerta che Monfalcone dà, che è già un'ottima offerta, ma con questo noi saremo sicuri assolutamente di poter dare, nel senso anche di questo tipo di integrazione, che è fondamentale ed importante, un'ulteriore possibilità di servizio ai nostri cittadini. Senta, un locale che ci passa, che abita, sapeva come la prima, un locale che è stato rifinito bene e soprattutto la cucina a vista. Io sono entrato in questo momento, ovviamente per l'inaugurazione, non l'ho ancora visto benissimo, ma la prima impressione è stata straordinaria. Ho visto un locale curatissimo, un locale molto pensato e quindi l'ho visto anche dal punto di vista della disposizione per l'angolatura in cui io ero posto, ho visto appunto la disposizione delle merci studiata e voluta, quindi denomina e denota anche il fatto che colui che lo ha pensato e che lo gestirà è una persona che già ha dell'esperienza e che quindi appunto può riuscire a dare nell'offerta di cui parlavo prima anche il suo bagaglio di esperienza che mi sembra che si è già radicalizzato in altri generi di città a noi vicino. Il fatto che si sia aperti in una, siamo in pieno centro, però in realtà in una via laterale che ha veramente poche attività commerciale aperte, può essere un segnale che pian piano forse qualcosa si riesce ad animare anche le vie secondarie del centro? Secondo me questa domanda ha due tipi di risposte e quindi due tipi di rizzi. La prima è quella che comunque le attività commerciali che comunque sono riconosciute e hanno un'identità ben precisa non hanno proprio la necessità del centro inteso come a fianco alla piazza o nelle due vie diciamo più conosciute, ma la gente ovviamente è in grado anche di spostarsi in altre zone magari leggermente decentrate, ma lo fanno esclusivamente per venire ad attingere a questo tipo di qualità. Primo, secondariamente sì è vero, chiaramente questa è una via che ha bisogno di essere un meno riqualificata e non ho dubbi che un'attività come questa che non avrà sicuramente problemi a funzionare potrà essere sicuramente fungere da volano per l'apertura poi di altre genere di attività.